Amici e amici sportivi buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Giovanni Celeste campionato di serie di girone di certesima giornata in campo Città di Messina, Gelbison con il numero 6 Manzo con il numero 7 Di Filippo con il numero 8 Santo Nicola con il numero 9 Sene Pape con il numero Alessandro Erra Città di Messina con il numero 1 Ivan Mandino con il numero 10 Nicola Citro con il numero 11 Livorio Bon Giovanni Buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.